In questi tempi di epidemia dobbiamo rivalutare l'aggettivo contagioso perché lo possiamo usare anche per il bene. Sono tantissime le persone che come volontarie sono in Africa da anni, qualche volta da decenni, qualche storia la conosciamo, ma il più è quel bene sotterraneo che comunque resta contagioso. Lasciamoci prendere da questo messaggero di Sant'Antonio che se purtroppo in copertina ha un'immagine potente e certamente non particolarmente positiva da Fimes Cascida, un esempio di ragazzo solo nel mondo, all'interno ha invece un bellissimo reportage proprio di quello che è Caritas Antoniana. Salute a portata di tutti, lo chiama il resoconto 2019 Giulia Cananzi, un resoconto generoso ed efficace che ha toccato i 3.360.000 euro e ha beneficiato oltre 1.130.000 persone. Al centro l'Africa e il problema dell'accesso ai servizi sanitari di base. È chiaro, del continente africano si è parlato immediatamente dopo la comparsa dell'ultimo virus che fa ancora piuttosto paura perché l'Africa, si è sempre detto, non sarà in grado di gestire un'eventuale pandemia ma invece quello che è importante è scoprire come appunto senza paura di essere solo una goccia nel mare Tante persone, supportate ovviamente anche da chi resta a casa, continuano a recarsi laddove c'è più bisogno di nuove strade e speranze per la salute appunto E andiamo anche al testo, mentre vedete che le colonne consuete sono proprio incorniciate da tutti i dati che riguardano solo per il 2019, pensate, i tanti progetti dal Benin alla costa d'Avorio in ordine alfabetico ovviamente al Malawi, alla Nigeria, alla Repubblica Democratica del Congo ma poi andando avanti al Togo, all'Uganda e qui siamo solo all'Africa che fa diciamo la parte del leone poi sfoglieremo e vedremo anche il resto però il riepilogo è fondamentale 3.360.000 euro dunque 130 progetti in 41 paesi 1.130.000 persone aiutate in tutti i 5 continenti Il resoconto Caritas Antoniana è uno dei più generosi e efficaci di sempre Due le novità dell'anno, i progetti sanitari sono i più numerosi i progetti in cui si è speso di più sono quelli che hanno al centro lo sviluppo umano ed economico delle comunità Cosa significa? Perché è una sottolineatura importante? Perché noi siamo abituati a pensare e molti naturalmente donano anche in questo senso che innanzitutto in Africa hanno più bisogno i bambini e le loro mamme ovviamente in termini come dire aritmetici questo è vero però il fatto che si sostengano con nuovi progetti le intere comunità farà la differenza la stessa differenza che c'è proprio in quel celebre detto se dai un pesce a una persona la sfamerai oggi se gli insegni a pescare sarà in grado di non avere più fame e andiamo oltre che al testo ovviamente anche a queste coloratissime immagini una grande sfida per il futuro del mondo visto che l'Africa passerà da 1,2 miliardi di abitanti già oggi a due e mezzo miliardi nel 2050 il continente ha anche il primato delle epidemie più gravi e nessuno può dimenticare ovviamente l'epidemia Ebola che tanto ha fatto versare inchiostro proprio perché l'Occidente aveva paura che potesse esplodere anche nei suoi paesi come abbiamo già intravisto prima ci sono questi progetti con queste cifre a suono di migliaia o decine di migliaia in cui troviamo anche il referente il riferimento non solo geografico ma anche appunto tra frati e laici e suore una sorta di geografia del cuore e delle mani soprattutto oltre che non dimentichiamolo appunto il supporto economico fortissimo e generosissimo ad esempio per l'Asia gli euro spesi nel solo, ripeto, 2019 sono stati 462.600 per l'Europa 224.900 e qualcuno penserà come mai ci sono progetti in Ucraina, in Romania ma anche nella nostra Italia ad esempio a Castrovillari ad esempio anche in provincia di Padova o di Treviso non mancano i bisogni e naturalmente i soccorsi che arrivano appunto da questa generosa comunità potremmo dire di coloro che non smettono di operare da vera e propria Caritas cioè con il cuore, l'amore che diventa realtà concreta per quel che riguarda le Americhe abbiamo una cifra di 284.300 dai numeri fin qui riportati si ricava, dice Giulia Cananzi un dato inedito per Caritas Antoniana i beneficiari privilegiati non sono più soprattutto bambini e ragazzi come nella tradizione ma le comunità nel loro complesso ecco quello che vi accennavo già prima oggi si aiuta allo sviluppo ma si ha una vivace complessiva una visione, scusate, complessiva e inclusiva che miri a una crescita della popolazione nel suo insieme e quindi per promuovere i processi di aggregazione e mutuo soccorso si mettono a disposizione sale polivalenti si danno mezzi alle parrocchie e alle associazioni locali i numeri confermano i progetti diretti alla popolazione sono 46 e coprono il 34% dell'intera somma se lo vogliamo vedere anche rapidamente in una grafica oltre che alle colonne in cui abbiamo visto l'elenco dei singoli progetti ecco in verde il continente africano che appunto ha fatto la parte del leone una storia dunque di numeri di amore per gli altri ma soprattutto una storia di speranza e di salute come abbiamo già detto da prima e ce n'è sinceramente molto molto bisogno a proposito ancora di differenza tra quelli che riteniamo essere dannosi luoghi comuni e approfondimento nel segno della verità anche l'eco di San Gabriele ci aiuta oltre ad avere in copertina questo splendido ritratto un classico di San Gabriele nel primo centenario della canonizzazione ci racconta un articolo di attualità che è firmato soltanto con le iniziali da uno dei redattori una volta c'era la celebre pubblicità che ci parlava di una telefonata che avrebbe allungato la vita anzi il protagonista parlava e parlava e davvero la sua esecuzione veniva rimandata questa volta invece nell'approfondimento troviamo un punto di domanda riguardo al fatto che le chiamate possano allungarci la vita forse c'è il caso che addirittura le accorcino infatti l'estate scorsa la pubblicazione del rapporto radiazioni e radiofrequenze e tumori sintesi di evidenze scientifiche tutto sommato rassicurava circa una non correlazione tra l'uso del cellulare e la comparsa di tumori nell'area della testa poi c'erano anche tanti dati specifici ma il rapporto dell'estate scorsa era solo uno dopo tantissimi perché sono decenni ormai che si cerca di approfondire qual è la conseguenza appunto di questa abitudine certamente recentissima dell'essere umano il problema però qual è? rispetto alle evidenze positive cioè che non c'è nessuna correlazione stando alla scienza tra i tumori della testa e l'uso intenso dei cellulari il problema è che non c'è nessun dato perché è ancora troppo presto rispetto all'invenzione del telefonino riguardante le conseguenze su coloro che non sono adulti su coloro che sono ancora in pieno sviluppo e quindi proprio questa non evidenza non significa che è sottolineato nell'articolo non ci siano danni possibili e quindi anche qui il principio di precauzione viene caldeggiato riguardo al fatto di non far usare se non per poco tempo i cellulari ai più piccoli e dunque viene citata anche una celeberrima sentenza che però ritorna con il pendolo dall'altra parte la corte d'appello di Torino invece dubbi sembrava non averne quando recentemente due mesi fa ha emesso un verdetto che può definirsi storico secondo i giudici ci sarebbe un nesso causale o quantomeno concausale tra il neurinoma del nervo acustico che ha colpito un dipendente telecom che per anni aveva fatto uso prolungato del telefonino anche fino a 5 ore al giorno e l'utilizzo appunto del cellulare un pronunciamento storico sul quale siamo voluti tornare proprio perché a volte noi vediamo solamente i mali che stanno arrivando e dimentichiamo invece quelli ai quali non abbiamo dato importanza ho avuto occasione più volte di ricordare che questo 2020 è l'anno di Raffaello in termini artistici 500 anni tondi dal momento in cui la sua arte ha rallegrato in paradiso e naturalmente ci auguriamo tutti che possa essere anche il paradiso un luogo in cui davvero l'arte dell'uomo possa continuare a dispiegarsi e già luoghi dell'infinito ad esempio ha un dettaglio tra i più celeberrimi riprodotti di questo che è definito maestro dei maestri e questo angioletto è irresistibile proprio perché ci sembra essere un tra di union tra quello che avviene sulla terra e quello che avviene in cielo poiché questo numero del mensile e di avvenire ha una serie molto lunga di articoli approfondimenti sul grande maestro di Urbino noi vogliamo cominciare da una pennellata di quello che è il quadro storico la cornice insomma in cui Raffaello è vissuto e lo facciamo con questo articolo anni di violenza e di bellezza guerre europee l'Italia in subuglio un Mediterraneo sempre più turco e tensioni religiose questi decenni del rinascimento quindi un modo davvero difficile se vogliamo di leggere dei decenni che sono stati anche parzialmente raccontati di recente da un'altra opera artistica degna delle arti audiovisive cioè la serie sui medici in cui abbiamo trovato Gerolamo Savonarola ma in cui anche dal punto di vista proprio della capacità di intravedere il genio nelle persone che passano accanto una serie di personaggi appartenenti alla famiglia medici mostrava questo fiuto da mecenati così fondamentale con Carlini però ritorniamo a alcune coordinate più semplici se vogliamo ma necessarie è stato detto che qualunque periodo storico può essere considerato un'età di transizione ciò è stato sempre senza dubbio vero tuttavia la storiografia moderna indica alcuni specifici momenti di rottura alcune fasi epocali ad esempio gli anni tra la fine del quindicesimo e l'inizio del sedicesimo secolo ecco quelli sono ancora oggi considerati cerniera tra medioevo e rinascimento specificamente nel rapporto tra fede religiosa arte e bellezza ci sono alcune opere che si impongono alla nostra attenzione noi le intravediamo in queste pagine ma soprattutto quello che Cardini vuole spiegarci è che siamo in un momento di passaggio proprio dal sentimento più dominante per la gente comune rispetto a quella che è la realtà se vogliamo la propria Weltanschauung come dicono con parola precisi tedeschi cioè la concezione della vita noi ingenuamente riteniamo che solo se si ha una riflessione filosofica e quindi un intelletto una cultura un ambiente adeguato possiamo capire qual è il principio dominante delle nostre scelte invece non è così anche in maniera non voluta inconscia c'è sempre qualcosa al di sotto delle nostre scelte e questo lo dice Cardini proprio a proposito di quel passaggio cioè dall'uomo vivente al servizio di quello che c'era stato prima cioè se vogliamo delle civiltà già morte l'uomo che guarda il cielo e più che la terra all'uomo che invece dimentica i propri morti dimentica quello che c'è stato prima chi ha creduto in che cosa se non in maniera appunto solo rituale e comincia a occuparsi semplicemente di sé l'uomo al centro questo lo abbiamo sentito tutti è una classica lezione riguardo all'umanesimo e il rinascimento ma questo è il punto decisivo anche nelle opere d'arte del periodo ad esempio la narrazione dell'avventura umana alla luce della rivelazione come la troviamo nella cappella Sistina Michelangelo dall'altra la presentazione dell'umano sapere nella raffaellesca stanza della signatura e dunque quali anni mirabili che furono caratterizzati da inaudite durezze insomma tante tante volte non solo nella letteratura per i poeti è molto più evidente prendendo ad esempio Giacomo Leopardi tanto per fare un nome che la sofferenza il dolore le situazioni difficili possono distillare arte purissima ma questo è accaduto anche in tanti altri tempi come racconta appunto Franco Cardini scomparso quel Lorenzo il Magnifico che Guicciardini avrebbe qualificato a volo della bilancia della politica italica le terribili profezie di Fragerolamo Savonarola annunziarono le guerre d'Italia alle quali sarebbero venute dietro quelle in tutta Europa pochi anni dopo Raffaello lavorava in Vaticano al servizio di Leone X non a caso un Papa Medici appunto e in Germania si andava preparando la frattura all'interno della chiesa d'Occidente riformare la chiesa in modo da ricondurla alla purezza dell'età apostolica è un vecchio sogno dei cristiani l'adagio riformare deformata cioè conferire di nuovo una forma corretta a un qualcosa che è diventato appunto un po' deforme si è rovinato questo era un detto molto popolare almeno da cinque secoli noi siamo abituati oggi a quello che è arrivato dopo cioè ecclesia sempre riformanda come se appunto la chiesa stessa fosse sempre da riportare alle linee pure primigenie e intanto vale la pena di citare anche quello che abbiamo visto ad esempio la resa di Granada era il fatidico 1492 l'olio su tela si trova a Madrid di Francisco Pradrillo Iortis invece in questa pagina abbiamo il retratto celeberrimo di Leone X con i cardinali Giulio De Medici il fratello e Luigi De Rossi e qui siamo appunto al pennello di Raffaello soltanto due anni prima che morisse 1518 si trova agli uffizi di Firenze questo capolavoro e subito sopra le didascalie che vi sto leggendo invece troviamo il tintoretto solo di tre anni dopo Francesco II Gonzaga durante la battaglia di Fornovo insomma guerre raccontate con un pennello delicato che potrebbe ritrarre il più fine dei sentimenti intimi questo è uno dei tanti paradossi dell'arte e in particolare dell'arte della dolcezza italiana di quel periodo perché è rimasto questo retaggio per secoli proprio perché ci sono queste opere d'arte cosa scrive ancora Cardini che possiamo considerare appunto introduttivo delle opere certamente Raffaello come gli altri come altri artisti dell'Italia del tempo in particolare era al corrente dei cambiamenti che si andavano profilando oltre Alpe e avrebbero finito per coinvolgere l'Italia ma a causa della sua precoce scomparsa nel 1520 appunto egli non visse appieno tali cambiamenti la sua età resta quella appena precedente quest'ultimo sconvolgimento comunque attraversata da pesanti inquietudini quegli anni gli stati italiani si guardavano e si marcavano tra loro in attesa di un'occasione per mutare a proprio vantaggio l'equilibrio pensate che era il 1454 quindi per parecchi decenni tutto sommato funzionò la pace firmata pensate dove la pace di Lodi ecco il nome di una città che all'improvviso ci evoca qualcosa di molto diverso rispetto ai nostri tempi odierni Venezia riprese il progetto di espansione in terraferma minacciando il ducato estense di Ferrara che era feudo della chiesa e ne scaturì un conflitto durato due anni ma siamo ancora nel decennio degli anni 80 del quindicesimo secolo alla fine del decennio la politica marinare e commerciale della Repubblica di Firenze era ormai collaudata da quasi 70 anni da quando cioè i fiorentini consolidato il dominio su Pisa avevano avviato la nuova magistratura dei consoli l'insorgere di interessi marinarie mediterranei a Firenze dove erano stati invece confinati a lungo alla politica dei lignaggi collegati con il regno angioino di Napoli fece cambiare nuovamente la politica diretta alla terraferma da parte dei veneti insomma tutto un minuetto potremmo chiamarlo quello quando si va a guardare come e perché nacquero tante divisioni e soprattutto si protrassero le divisioni ci vorrebbe una lente di ingrandimento e naturalmente anche sempre la magistrale penna di chi conosce appunto le linee generali di questa storia che è una parte della storia perché è fatta soltanto dai potenti ritorniamo all'arte che è quello che ci preme di più in questa pagina da sinistra Jean Bourdieu ingresso di Luigi XII a Genova dal Le Voyage de Jean de Jean Marat è una miniatura che si trova nella biblioteca nazionale francese ovviamente con sede a Parigi e finiamo invece con un italiano Giorgio Vasari colui che è celebre per come descrisse le vite di tanti artisti e di tanti geni ma lui stesso era un pittore andiamo dunque a vedere questa partenza di Cosimo il Vecchio per l'esilio un dipinto murale che si trova nel museo di Palazzo Vecchio a Firenze gli occhi li abbiamo soddisfatti anche per questa puntata e naturalmente Raffaello può soddisfarci ancora e per parecchie volte e per